Buonasera e bentrovati a questo appuntamento con l'informazione di Icaro Tg, i titoli principali dell'edizione di oggi. È stato trovato senza vita in un campo a Verucchio il 54enne San Marinese, di cui non si avevano più notizie da sabato, ancora da chiarire le cause del decesso. Un residence in disuso a Cattolica era diventato rifugio per senza fissa dimora che vivevano in condizioni precarie, all'alba un blitz dei carabinieri. Aeroporto Air Riminum conferma che non ci saranno voli il 7 marzo e nessuna certezza su quando si volerà, la will tuona, una situazione inaccettabile e nessuno dice niente. Torna a Rimini Fiera Ritman Basket, le finali di Coppa Italia accompagnate da tanti eventi collaterali. È stato trovato purtroppo in un terreno agricolo a Verucchio senza vita il 54enne Marcello Biordi, residente a Borgo Maggiore di San Marino, scomparso senza lasciare tracce nella mattinata di sabato. Questa mattina ai carabinieri di Nova Feltria, arrivata una telefonata da un cittadino che segnalava la presenza di un corpo riverso in un podere sul posto. Oltre ai militari della compagnia di Nova Feltria e la sezione rilievi del comando provinciale dei carabinieri di Rimini, sono intervenuti i sanitari del 118 e il medico legale. L'autorità giudiziaria ha disposto il trasferimento del cadavere all'obitorio dell'ospedale infermi di Rimini per l'esame autoptico. Sono ancora in corso accertamenti per stabilire la causa del decesso. Questa mattina i carabinieri di Cattolica sono intervenuti in un albergo in disuso o diventato rifugio per senza fissa dimora. All'interno c'erano sette persone che vivevano in una situazione di totale degrado. È scattato questa mattina intorno alle 6 il blitz dei carabinieri in un residence di Via Perugia, Cattolica, da tempo in stato di abbandono. La struttura era utilizzata come rifugio notturno da cittadini di origine nordafricana che alloggiavano in condizioni di forte degrado igienico-sanitario e con rischi per la sicurezza. I vicini avevano segnalato un viavai sospetto alle forze dell'ordine e all'interno, al momento del blitz, sono state trovate sette persone di origine senegalese senza fissa dimora, accompagnate nella sede della locale tenenza per gli accertamenti sulla loro posizione nel nostro paese. Sono stati denunciati per occupazione abusiva di edificio e quattro di loro saranno proposti per l'allontanamento dal territorio nazionale. Tra giacigli di fortuna, bagni e cucine improvvisate, in condizioni precarie e in fissi cadenti, sono stati trovati anche fili di rame di provenienza sospetta. I carabinieri sono intervenuti anche con un'unità cinofila alla ricerca di tracce di stupefacenti. Sul posto c'erano anche gli agenti della Polizia Municipale. Questo è solo il primo controllo di un'ampia attività di contrasto ai reati predatori e allo spaccio. Fanno sapere i carabinieri di Cattolica che hanno ricevuto anche il ringraziamento del sindaco Cecchini. Il primo cittadino ricorda anche il tavolo permanente di confronto attivato sulle problematiche legate a sicurezza e lotta all'illegalità. Nessun volo su Rimini né il 4 né il 7 marzo. La conferma arriva dai diretti interessati. Manca ancora infatti da parte di Enac la certificazione definitiva per l'apertura al traffico commerciale del Fellini che resta ufficialmente chiuso. Dunque il volo del vettore russo Vim Airlines, atteso da Mosca prima per il 4 marzo e poi per il 7, non atterrerà in Riviera ma atterrerà ad Ancona. All'agenzia dire lo sfogo della Presidente Fincato che parla di incomprensioni burocratiche e non vuole fare altri annunci. Abbiamo già fatto abbastanza figuracce per colpe non nostre, dice. Una situazione che la UIL di Rimini definisce tragicomica. Siamo indignati, si legge in una nota, da quello che sta succedendo intorno alla questione aeroporto e rimaniamo alquanto perplessi dall'assoluto silenzio e mobilismo di tutti e per tutti si intendono istituzioni locali, parlamentari, Camera di Commercio e chi potrebbe avere voce in capitolo. Ma dai parlamentari arriva l'invito di Giulia Sarti del Movimento 5 Stelle a non fare di tutta un'erba un fascio. La Sarti ricorda le sue interrogazioni appunto sulla questione dell'aeroporto e annuncia anche una serata di approfondimento sulle Fellini promossa dal Movimento 5 Stelle in cui, dice, potrebbero anche emergere cose che forse non tutti sapevano. Arpa ha pubblicato il report 2014 sulla qualità delle acque di balneazione riminesi e quest'anno a fronte di una qualità generalmente soddisfacente i controlli programmati non sono risultati del tutto positivi, soprattutto per Riccione. Rimini che, come è noto, ha i maggiori problemi di balneazione da risolvere per la mancanza delle reti separate, alle quali il piano di salvaguardia della balneazione sta cercando di rispondere. E anche quest'anno l'estate perturbata ha causato numerose aperture degli scolmatori di piena, con conseguenti divieti. Ma il report Arpa boccia quest'anno soprattutto le acque a Riccione. Nel resoconto 2014 dei prelievi programmati ci sono parecchi bollini rossi, un fatto che dipende dal calendario, deciso in anticipo e quindi con esito variabile a seconda della concomitanza o meno con forti piogge, oppure con eventi del tutto eccezionali come un guasto alle condotte che il 20 giugno ha causato al Marano una concentrazione di escherichia coli con un valore di 12.033 rispetto a un limite di 500. Il secondo valore è quello di Torre Pedriera Cavallaccio, il 5 maggio con 2.700. Il comune di Riccione in quell'episodio si attivò subito con i divieti e gli interventi di ripristino, ma quel valore ha ovviamente influito sul giudizio complessivo. Per quanto riguarda gli enterococchi intestinali, il primato negativo va sempre a Riccione, dove il 1 agosto al Porto Canale ci fu un valore di 1.050 rispetto a un limite di 200. Tra le altre zone con valori oltre il limite, in più casi Cattolica, la Foce del Ventena, la Foce dell'Uso a Bellaria e l'area Rivabella Turchetta a Rimini. Nel giudizio complessivo a fine stagione per le acque della zona Riccione, Foce Marano, 50 metri nord, la qualità risulta scarsa. Per le acque Rimini, Foce Marecchia, Riccione, Foce Marano Sud e Cattolica di fronte a Viale Venezia, la qualità è semplicemente buona. Per tutte le altre aree l'acqua è eccellente. Sabato scorso è scaduto il termine per l'ufficializzazione di manifestazioni di interesse su Mercatone 1 nell'ambito della procedura di concordato aperta per l'azienda. Alla scadenza sono state ufficializzate ai vertici aziendali tre manifestazioni da parte di altrettanti potenziali investitori. Sui nomi la Mercatone 1 mantiene il massimo riservo, ma fa sapere che sono già in corso i contatti per i necessari approfondimenti. I dati 2014 sul mercato del lavoro aprono qualche spiraglio di luce. In fondo al tunnel della crisi in provincia di Rimini diminuisce il tasso di disoccupazione, anche se i dati riminesi sono quelli peggiori in regione. Si inizia a intravedere una leggera inversione di tendenza nel mercato del lavoro. I dati diffusi dall'Istat vedono un aumento dell'occupazione nel 2014 dello 0,4% dopo due anni di calo. Il tasso si attesta al 55,7% con un aumento nella fascia oltre i 50 anni ed un calo però tra i più giovani. Il tasso di disoccupazione invece cresce e raggiunge il 12,7% nel 2013 era il 12,2%. Segnali positivi anche dai dati della provincia di Rimini, dove la disoccupazione ad esempio scende dall'11,5% all'11,1%, in regione però fa peggio solo Ferrara. Le maggiori difficoltà le incontrano le donne, 13,5%, rispetto agli uomini, 9,1%. In totale nel riminese la forza lavoro, vale a dire le persone occupate e quella in cerca di occupazione tra i 15 e i 64 anni, si attesta a 152.000 unità, con un tasso di attività del 69,2%, in crescita ma sempre il più basso in Emilia-Romagna. Gli uomini occupati sono 76.000, 69,9%, le donne 59.000, 53,2%, con una media complessiva del 61,4% che vede Rimini nettamente fanalino di coda tra le province Emiliano-Romagnole, tra le quali spicca Bologna che sfiora il 70%, ma ben si comportano anche Forlì e Ravenna, entrambe sopra il 66. Tra i settori si segnala un calo dei lavoratori agricoli, dimezzati, da 2.000 a 1.000, mentre crescono quelli dell'industria, da 35.000 a 38.000, benché sempre settore di riferimento nel riminese, segna il passo all'ambito dei servizi, da 97.000 a 95.000 occupati. Sono stabili le persone in cerca di occupazione, 17.000, mentre il tasso di inattività, chi non cerca lavoro o non ha l'età per farlo, cala dal 31,3 al 30,8%, si tratta di 66.000 persone, ben 42.000 sono donne. Torna alle 20.35 su Icaro TV l'appuntamento con la trasmissione Varie Eventuali, notizie da terza pagina. Nella puntata di questa sera si parla di truffe online con il comandante della Polizia Postale di Rimini, Vincenzo Papagni. Vediamo un'anticipazione della trasmissione. Sempre più competenti, preparati e senza scrupoli. Sono i truffatori 2.0, quelli che passano le loro giornate davanti a schermi PC e tastiere alla ricerca di un grimaldello elettronico per alleggerire le proprie potenziali vittime. 300 le denunce raccolte ogni giorno nel 2014 in Italia dalla Polizia Postale, praticamente una ogni 5 minuti. Gli attacchi agli internauti arrivano dallo shopping, dalla mail e dai social network, ma spesso il grimaldello non è solo elettronico. Una volta magari si usciva di più, si andava nei locali a svagarsi, si conoscevano delle persone. Adesso la vita reale si è spostata quasi interamente sul web. Ed è qui che cominciano i guai. Negli ultimi anni sono aumentati a dismisura i casi di sex torsion, vale a dire le estorsioni online a sfondo sessuale. Nel 98% dei casi le vittime sono uomini. Navighiamo di solito sui social network e a certo punto una bellissima ragazza ci chiede l'amicizia. Parte una serie, una sessione di chat e dopo breve questa ragazza ci chiede di spostarci su Skype o altri canali, dove inizia uno spogliarello e dopo un po' gli viene chiesto di fare altrettanto. Non si accorge che viene videoregistrato. Dopo breve la ragazza interrompe la comunicazione, gli fa rivedere il video e gli chiede un riscatto. Se in prudenza e l'eccesso di fiducia portano i maschi a perdere la bussola per belle ragazze virtuali, a tradire le signore invece è romanticismo. Le donne cadono invece in quello che è definito lo scam amoroso. Eclatanti alcuni casi. Dopo un anno di corteggiamento online, una trentenne di origine francese è arrivata a donare ad un coetaneo di Rimini 41 mila euro. Lui le aveva detto che doveva aprire una palestra. Una 45enne romagnola è caduta invece nella trappola di un falso marine di stanza in Afghanistan. Lui le aveva detto di voler abbandonare l'esercito per raggiungerla. È arrivata a pagare 24 mila euro. Già dalla prima richiesta doveva far capire che si trattava di una truffa. Purtroppo si era però innamorata di questo marins. In tanti ieri sera la chiesa di Sant'Agostino a Rimini hanno partecipato al primo degli appuntamenti delle meditazioni cuaresimali proposte dalla diocese di Rimini che quest'anno hanno come tema l'Evangelii Gaudium. L'apertura è stata affidata al giornalista vaticanista Luigi Accattoli che ha parlato del percorso di riforma della chiesa tracciato da Papa Francesco. Il Papa ha detto Accattoli vuole una chiesa sempre più missionaria, una tensione che traspare da ogni sua parola e da ogni sua azione e ancora ha detto la gioia del Vangelo per Francesco e l'ispirazione profonda della sua azione pastorale capace di raggiungere ogni uomo, non solo i credenti. La prossima meditazione, lunedì prossimo alle 21, sarà affidata a Don Giovanni Nicolini, parroco della dozza di Bologna che parlerà della chiesa ospedale da campo. I cuaresimali saranno trasmessi da Icaro TV. Il primo incontro andrà in onda venerdì alle 22.15 al termine dei giorni della chiesa su News Rimini, TV Canale 614, sabato alle 22.30. Siamo al calcio, domenica ha realizzato il gol del pareggio per i Rimini a Bellaria, il suo primo sigillo con la maglia a scacchi, lui che è cresciuto nel vivaio bianco-rosso. È stata una domenica speciale per Riccardo Paganelli che nell'esultanza si è lavato di dosso le sfortune dell'ultimo periodo, come ha spiegato ieri sera nella nostra trasmissione sportiva, calcio.basket. Il campo di Bellaria sicuramente non è uno dei migliori sintetici perché comunque si aspetta una partita sul piano tecnico in questi campi qua dove la palla dovrebbe scorrere meglio, invece forse è un po' rovinato o non è di nuova generazione, hanno fatto un'ottima partita anche loro, preparata con le loro, come sapevamo, su queste palle lunghe su Bernacci e tutti pronti gli esterni e le punte vicine andare sui rimbalzi. L'hanno impostata bene, poi anche sul piano della loro difesa sono stati bravi, sono stati bravi. Sempre dietro a rincorrere la condizione perché anche adesso ero appena rientrato da un infortunio alla coscia, uno stiramento e in settimana dove mi ero potuto allenare con continuità, il giorno prima della partita, sabato scorso, ho avuto una piccola distorsione alla caviglia che mi ha condizionato, oltre che per quella partita lì, anche per tutta la settimana che ho fatto fatica ad allenarmi. È un periodo un po' così, dove mi dispiace non poter dare al massimo il mio contributo, però per fortuna ieri è venuto un gol e speriamo che sia la volta per ripulirmi da queste sfide. Non c'era quindi nessun tipo di vena polemica per chi ha letto? No, erano battute nello spogliatoio dove ancora sei qui nel lettino e cose varie, ma tra di noi, da spogliatoio. È bene anche chiarire perché siccome... Poi magari c'era la faccia un po' seria perché si prendeva la palla per ritornare al centrocampo, si voleva vincere la partita, quindi non era un'esultanza dove poteva essere gioiosa, eravamo un pari e a noi non ci bastava, volevamo vincerla. E parliamo anche di basket. Nel fine settimana, venerdì a domenica, in fiera a Rimini, si terrà la seconda edizione di Ritzman Basket, le finali di Coppa Italia, accompagnate però da anche tanti altri eventi. Questa mattina la presentazione. Le finali di Coppa Italia, dei campionati di A2, B e C, con 18 squadre in lizza nella fase finale, ma anche tanto altro nella seconda edizione di Ritzman Basket in fiera a Rimini, un format che vuole fare della palla canestro, come ci tiene a chiamarla il presidente di Lega Basciano, un momento di incontro e aggregazione, due i campi allestiti da 5.000 posti per le 15 gare, ma anche stand, musica, playground, clinic e approfondimenti, partite ufficiali a parte. Gli eventi saranno gratuiti, aperti a tutti, con un'attenzione particolare ai più giovani. Nella prima edizione i visitatori sono stati 20.000, l'ambizione è arrivare a 30.000. Non è solo evento agonistico, non è solo evento sportivo, ma a contorno sono tutti eventi organizzati per coinvolgere il mondo dello sport, quindi contiamo su eventi come questo per far crescere molto di più e far avvicinare molto di più la gente al mondo della palla canestro italiana. Il palla canestro è quello che ci può permettere di formare i nostri giovani e quello che ci può permettere di far crescere i nostri ragazzi con prospettive e con positività verso il futuro. Soltanto per il basket, pensiamo che quest'anno a Rimini abbiamo completamente riqualificato la casa del basket, quindi che è la sede storica dove ci si allena, dove si crea il settore giovanile. Abbiamo il palla 105 che era nato per il basket e adesso è stato per esempio utilizzato questo week-end per le final four dei volley e poi abbiamo la fiera come contenitore anche di eventi sportivi. Quindi credo che l'obiettivo che stiamo portando avanti di far sì che Rimini sia il primo distretto turistico sportivo in Italia, questo inizio della stagione lo sta pienamente confermando e lo raggiungeremo. Dopo la compilazione, martedì scorso, del calendario della prima fase entra nel vivo la campanella e il gioco delle scuole superiori in diretta su Icaro TV questa sera dalle 21.10. Per saperne di più ci colleghiamo con i conduttori Otello Menucci e Roberto Bonfantini. Ciao Roberto, come va? Tutto bene, grazie Otello. Salutiamo anche Maurizio. Ciao Maurizio, buonasera, buonasera a tutti. Siamo qui, siamo pronti? Maurizio sta conducendo il TG. Ah, ciao Maurizio. Siamo pronti? Sì. Pronto, parole esagerate. Parole grosse. È una vita che siamo pronti, sicché 31 anni che siamo pronti. Iniziamo con la sfida? Sì. Iniziamo con la sfida? Cosa dice la scaletta? E dice che questa sera istituto tecnico per il turismo Marco Polo contro istituto professionale di Stato per i servizi commerciali Luigi Einaudi. Poi la gran bella gara, sicuramente, comunque vada, sarà un successo. Deve aver detto già qualcuno sta cosa qua. È già. Secondo te, secondo me. Qualcuno mi sembra che abbia detto qualcosa del genere. Allora, secondo te, terzo io, e primo quello del TG, lo salutiamo qui. Ciao Maurizio, 21.10 in diretta su Icaro TV. Vi aspettiamo dopo. Ciao. Un saluto anche i nostri conduttori. Io vi lascio alla meteo. Tra l'altro è stata attivata una nuova fase di allerta della protezione civile in Emilia-Romagna dalle 13 di domani per 48 ore. Per quanto riguarda le precipitazioni e il vento, un'allerta che riguarda soprattutto l'Emilia, ma ci saranno piogge temporali anche sulla pianura romagnola. Quindi c'è anche preoccupazione per lo stato del mare lungo tutta la costa. Vi ricordo anche il nostro sito di informazione, newsrimeni.it. Grazie per averci seguito e buona serata.